Bella a tutti ragazzi Eppure tu vuoi parlare? Guarda che sta a registrare Ciao per... Però la connessione mi schifo Ciao Stiamo in Arena 4 e vado in Arena 3 Sì è vero Guardate Vabbè faremo una vacca Oh che c'è? Ciao Ciao Tattararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar dietro va bene qua ecco qua poi non aspetta aspetta ti ho detto lordo anche la fungia andando qua non mi sa niente è fortissima però mi vuole bene 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 non lo vedete che è piaciuta c'è il peccolo il peccolo è più grande peggio sullo stelisiro dai maiale per forza la capannina la metto in là dai si è così ma al tanto muro la distruggia perché qua poi muro metti lord no aspetta questo mi è sbagliato vabbò dai è rimasto io metti i barbi aspetta fammi ricaricare le visite quando poi è spartaco si chiama il 268 ma poi ti attaccano ma poi ti attaccano ma poi ti attaccano è buon calo che domatore domatore ma poi uno me l'ha fatto però dai uno no solo uno dai no per te non te l'ha spaccato tu sei dai dai anche un'altra non sembri più 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 un'altra oh dai ma come no ma guarda ma che ha fatto questo ma che risolta a fare la strada lui no è vero po' forca ma non è 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 ma te lo ti scrivi lo l'hai messo e scusa eeeh buon fatto bene no come dove nato di di non so che mi è manca poco ma tanto un domatore è attaccato solo le torre e appunto lui mi aveva attaccato la torre ma con tutte queste truppe mi dispiace no buuuu stand out aspetta non ho fatto due a due secondi tre secondi vabbò dai ok bule d'argento intanto si sta apri questo vabbò dai ti ho ti ho battuto vabbò ma facciamo contro io e te no 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 un'altra vittoria no un'altra due di nuovo arena 4 no come no ok vabbè dai stoppiamo il video ciao 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 Grazie a tutti